ciao ragazzi e ragazze benvenuti o bentornati qui sul mio canale in questo breve video di oggi ti andrò a parlare di un software che può essere molto utile in situazioni di registrazioni di più device o di invio di audio del computer della scheda eccetera eccetera tramite dei software esterni come skype zoom eccetera eccetera una cosa molto utilizzata soprattutto magari per eventuali lezioni online che adesso vanno abbastanza in questo video non facciamo sigle dritto per dritto il software in questione si chiama loopback parto subito da una premessa è un software mac only e il costo non è così irrisorio perché vi parlo di questo software perché è l'unico che ho trovato veramente semplice intuitivo ed estremamente efficace ne ho provati almeno altre due versioni altre due tipologie di software diverso e comunque li ho trovati molto più macchinosi alcuni nemmeno facevano quello che stiamo cercando di fare adesso cioè l'idea è che loro registrano tutti questi device e ti creano un file audio non è quello che ci serve a noi nel mandare in streaming quindi comunque in diretta senza creare un file audio però magari mi è sfuggito qualcosa quindi se dovesti conoscere un software magari economico o free addirittura che fa la medesima cosa scrivimelo qui sotto nei commenti però ritengo che magari una certa spesa iniziale può essere giustificata se per qualcuno questo software dovesse risultare piuttosto utile come ad esempio nel mio caso ti lascio qui sotto in descrizione il sito dove puoi trovare questo software ad esempio ho utilizzato questo software proprio per la realizzazione dei miei video tutorial su garage band cosa che altrimenti avrei avuto grande difficoltà nel realizzarle perché nel caso specifico di garage band io avevo più fonti sonore e più situazioni in ballo nello specifico stavo registrando lo schermo del mio computer e il software che registra lo schermo mi chiedeva anche quali audio registrare e io avevo in ascolto quello e cosa succedeva che o registrava le schede dove io registravo la voce e la chitarra o il software garage band quindi o potevo sentire uno o l'altro non entrambi contemporaneamente ma tramite questo software io ho creato un device virtuale che sommava garage band le schede eccetera e le mandava al software di registrazione dello schermo dopo di che io potevo sentire tutto l'insieme però adesso basta parlare e andiamo nello specifico di questo software bene eccoci qui allora vediamo subito io qui ho già aperto il software adesso come vedete ci sono già dei progetti uno è quello che andremo a creare insieme oggi l'ho dovuto già creare se no non sentivate niente in registrazione e poi l'altro è quello che ho utilizzato proprio per la realizzazione del tutorial su garage band perché anche lì ho avuto quel problema cioè non avrei potuto sentire io tutto e registrare tutto per poi fare tutto il video youtube eccetera sia delle registrazioni sia del software garage band poi lo vediamo insieme normalmente quando uno apre questo software loopback si ritrova questa schermata vuota scusa mi interrompo un secondo questo video per dirti che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti quindi se vuoi aiutarmi a supportare questo canale clicca il pulsante iscriviti qui sotto e attiva la campanellina se vuoi ricevere aggiornamenti sui miei prossimi video per te è un piccolissimo sforzo ma per il mio canale è un enorme aiuto a crescere la prima cosa da fare se lo facciamo insieme new virtual device creiamo un device virtuale proprio e lo creiamo vedete che adesso inizio a disattivarlo perché non vorrei che crei problemi però vedete bisogna definire un nome chiamiamolo ad esempio spesso una cosa che si tende ad utilizzare proprio nelle lezioni online skype e queste cose io vedete che lo chiamo lezioni skype facciamo due perché l'ho già fatto uno e decidiamo il nome perfetto vedete che abbiamo sources cioè sorgenti e output e poi monitor vediamo dopo cos'è monitor questi sono indispensabili il primo e il secondo io vi consiglio il secondo non toccatelo canale 1 e 2 l'uscita cioè sinistra destra se create più lui vi fa ulteriori canali questo può essere utile se si vuole suddividere le uscite per magari mandare determinate uscite determinati suoni o determinati ingressi ad altre uscite diciamo fare delle cose un po più avanzate non è questo il caso quindi partiamo da questo allora qui c'è un pastro non ci serve se dovete eliminare qualche sezione dovete selezionarle fare delete qui delete perfetto cancelliamo allora a me cosa serve in skype mi serve la chitarra la voce che gestisco con una scheda audio la stessa ok quindi cosa faccio clicco più vedete che ho un sacco di cose allora io dico la mia scheda che cosa vedi vedete audio devices lui vede tutti i device di ingresso che sono queste io gli dico universal audio thunderbolt che la mia scheda quindi seleziono quella e lui mi crea la sua sezione adesso vedete che è un macigno questa questa scheda allora lui di base vi crea queste cose allora credo ok devo attivarla vedete che già mi prende un suono il 2 quando parlo perché perché il canale 2 è il canale dove io inserisco il microfono però vedete che lui mi sta mandando il segnale del microfono solamente a destra all'uscita quindi l'interlocutore una volta che apriremo skype tutto lo sentirà solo a destra e non va bene quindi cosa faccio seleziono questo e lo cancello sempre delete vedete cancello queste linee poi gli dico guarda il segnale del 2 mandamelo sia a destra che a sinistra come clicco sull'uscita sul pallino legato all'uscita trascino vedete che si crea una linea e la accompagno all'uno ecco che la voce lui la avrà in entrambe le orecchie in entrambe le casse comunque in maniera naturale non come se gli stessi parlando in un orecchio solo perfetto adesso quindi così ho collegato la voce la voce sta arrivando all'uscita ci manca la chitarra come facciamo per farlo io ho già collegato tutta la chitarra eccetera alzo il volume vedete ci sono mossi dei canali 15 16 25 26 allora normalmente in una scheda audio un po meno elaborata si muoverebbero un canale solo o due nel mio caso nel mio caso due perché è stereo io so che gli ingressi dove collego il mio camper alla scheda sono il 15 e il 16 dove il 15 è il sinistra e il 16 al destra quindi cosa faccio 15 lo trascino a sinistra e lascio 16 lo trascino a destra e lascio così l'interlocutore la persona eccetera su skype sentirà sia la mia voce che il canale 2 sia la chitarra 15 16 25 26 è una coppia virtuale non ci serve normalmente non dovrebbe succedere questa cosa ma è una scheda particolare perfetto già così voce e chitarra l'interlocutore la sentirà mettiamo conto un'altra cosa che nelle nostre lezioni noi non solo se mandiamo la voce e la chitarra ma magari utilizziamo anche delle backing track come facciamo perché in questo caso non si sentirebbero le backing track sentiremmo solo quello che arriva alla scheda ma le backing track arrivano dal computer non dalla scheda noi cerchiamo di utilizzare magari un software ad esempio quick time che è quello di base nel mac per la backing track come facciamo a mandare anche la backing track semplicemente sources vedete che c'è select applications oppure running vedete io ho già preparato una backing track apro quick time player e lui me la crea e mi manda i segnali che utilizzerà quick time player anche lui alle uscite quindi adesso io ho preparato una bellissima backing track che la porto su se io faccio play noi la sentiremo e la sentirà l'interlocutore in skype altrimenti se noi avessimo mandato play senza creare questa cosa noi avremmo sentito la backing track avremmo potuto suonare ma chi dall'altra parte ascoltava la conversazione skype non avrebbe sentito la backing track play ok ci siamo capiti in questo modo uno ha tutto perfetto noi quindi creiamo questa questa sessione scusate facciamo sparire allora cos'è monitor allora monitor è se noi vogliamo monitorare il tutto tramite un'uscita particolare vi faccio vedere ad esempio in garage band nella sezione che avevo costruito vedete avevo fatto le schede la scheda vedete che i canali erano i medesimi si qui ho scelto 25 26 invece che 15 16 ma per altro motivo vabbè e anche garage band cosa succedeva però che io tramite garage band e tutta la sessione di registrazione non riuscivo a sentire soprattutto garage band non me non me lo mandava in uscita quando io facevo play per registrare magari la traccia successiva sentivo quello che stavo registrando in quel momento ma non tutto il resto quindi ho dovuto creare un device monitor scegliendo le cuffie esterne l'ingresso delle cuffie del computer stesso in questo modo gli ho detto mandami quello che stai registrando stai mandando globalmente rimandamelo lì in modo che io senta tutto ok quindi in questo caso ho risolto il problema se dovessi manca dovessero mancare delle cose in ascolto nel caso di questo non dovrebbe succedere infatti il mio lezioni skype di base è così vedete identico io sto sentendo tutto dalla scheda passa tutto tramite la scheda ok quindi perfetto ci siamo l'altra cosa da fare adesso importante è ovviamente aprire skype quindi apriamo il nostro skype e in questa sezione dobbiamo manteniamo attivo quello che vogliamo utilizzare nel caso specifico magari utilizziamo skype originale dobbiamo prestare molta attenzione dalle impostazioni audio video ad impostare come ingresso non il microfono ma lezioni skype se io seleziono lezioni skype dall ingresso nella sezione ingresso dove scritto microfono audio microfono seleziono il nome che mi troverò nella lista con cui ho scelto questa sessione di loopback l'interlocutore avrà quell'audio lì in questo modo abbiamo risolto il problema bene spero che questo video ti abbia aiutato nel risolvere questo problema di utilizzare magari più fonti sonore e mandarle in skype o in altri software di streaming eccetera eccetera come dicevo all'inizio un software un po costoso ma fa un gran lavoro funziona veramente bene però come dicevo all'inizio se conosce un software analogo che faccia la stessa cosa altrettanto bene magari però meno costoso scrivimelo qui sotto nei commenti di sicuro può essere utile a tutti bene intanto ti chiedo di mettere mi piace al video con il pulsante qui sotto se il video ti è piaciuto iscriviti inoltre al mio canale ed attiva la campanellina se vuoi ricevere notifiche ed aggiornamenti sulle mie prossime pubblicazioni seguimi anche sui miei social facebook e instagram per ulteriori curiosità ed approfondimenti noi ci vediamo prestissimo per un altro video ciao